I sintomi dell'allergia alimentare sono sintomi che conseguono all'ingestione dell'alimento, di solito sono immediati, possono esserci casi anche di reazioni un pochino più tardive, sono sintomi severi, sono sintomi che sono a carico dell'acute, quali orticaria, angioedema, si possono avere crisi respiratorie, si può arrivare alla reazione più grave che è l'anafilassi. I sintomi della intolleranza alimentare sono invece l'espressione di una infiammazione cronica dell'intestino, quindi una sorta di malessere generale che si viene a creare, quindi sintomi sistemici, principalmente il paziente ha dei disturbi gastrointestinali, caratteristicamente il paziente viene nei nostri ambulatori lamentando la pancia gonfia e la difficoltà a digerire. Accanto a questi ci possono essere sintomi invece sistemici come le dermatosi o le dermatiti ricorrenti, la cefalea e i dolori muscolari o le artromialgie.